buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv sostenete il lavoro del nostro canale ne abbiamo bisogno e potete farlo abbonandovi ci sono varie forme di abbonamento oppure potete farlo con un contributo volontario dalla pagina web del nostro sito www.casa del sole punto tv barra sostienici e potete farlo anche continuando a partecipare con noi al nostro lavoro oggi parliamo di alterità e di demonizzazione dell'alterità e lo facciamo con lo scrittore e filosofo della scuola stoica michele putrino buonasera michele buonasera a te jeff buonasera a tutti michele in nome dei valori cristiani noi abbiamo invaso e occupato il nuovo mondo e per evangelizzare selvaggi abbiamo sterminato milioni di persone e poi abbiamo continuato così sulla stessa strada per secoli fino ad arrivare ad oggi e se si leggono i diari della scoperta dell'america e dei conquistadores si capisce che le somiglianze fra vecchi e nuovi conquistatori è molto simile è molto forte gli spagnoli fra l'altro bruciavano i libri dei messicani precolombiani degli incas e degli azzechi scusate e adesso stiamo bruciando i libri russi e siccome parliamo spesso di valori dell'occidente quando è che è nato l'occidente quando è che l'occidente è diventato tale non è che forse dobbiamo cambiare lettura e smettere di parlare di occidente e oriente per andare veramente verso un mondo multipolare e multilaterale anche leggendo dugin e lui parla di un mondo molto culturale quindi non contrappone due mondi non non parla di un blocco monolitico ecco mentre c'è una certa tendenza a confondere varie forme di sovranismi con ricette un po confuse non è che parlare che per parlare di valori e anche di cristianità dovremmo intanto uscire dal tunnel della chiesa invece di tifare per un papa o per l'altro e dobbiamo ricominciare a studiare la storia in modo in modo più attento Michele ma guarda Jeff il problema di fondo è che soprattutto diciamo così dalla fine dell'impero romano in poi quella fine del mondo classico mettiamolo in questo modo beh si è innalzata a verità assoluta l'ideologia l'idea la visione del mondo cioè nel senso che la visione del mondo in senso negativo del termine ovviamente nel senso che da quel periodo in poi l'uomo si è convinto che deve plasmare l'uomo la natura l'uomo come società e la natura che circonda l'uomo secondo la propria visione secondo la propria idea secondo i propri desideri se ci fate caso da un certo periodo in poi si inverte la tendenza dell'accettare la natura per quella che è e si inizia invece a dire no la natura deve essere questo l'uomo deve essere quest'altro e così via questa cosa ha inizio prima del cristianesimo in realtà una tra tutte ad esempio il neoplatonismo ma secondo molti studiosi bisognerebbe far rientrare anche proprio la filosofia di platone in generale però diciamo per dare un punto abbastanza preciso a livello di storia del pensiero umano possiamo indicare il neoplatonismo quantomeno tra le strutture di pensiero che hanno avuto una grossa influenza sugli esseri umani da lì in poi l'uomo non ha fatto altro che tentare di obbligare il mondo materiale ad essere come desidera lui secondo i propri desideri e questa è la tragedia dell'uomo Jeff e questa cosa è andata sempre peggio è andata peggio se guardiamo da quel momento in poi la storia diventa diventa come un vortice che va sempre di più a peggiorare sempre di più a peggiorare sempre più individui che dicono di possedere la verità assoluta e confondono i propri pensieri la propria visione del mondo per la verità assoluta ne sono convinti nasce insomma il famoso fanatismo no cos'è il fanatismo io sono fan del 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 mio pensiero io credo in maniera assoluta a quello che dico anzi quello che dico è la verità e gli altri sono tutti ignoranti devo piegare tutti a questo guardate che oggi siamo stiamo vivendo l'apice di questo processo è l'apice e la cosa grave quale è che chi pensa in questo modo è convinto di essere nel giusto l'errore che viene fatto spesso da molte persone del dell'ambiente della cosiddetta controinformazione o informazione alternativa o della cultura alternativa e credere che semplicemente le persone che sono al potere si divertano tipo a schiacciare gli altri oppure soltanto a dominare gli altri per per denaro o per il piacere del potere nessuno esclude che ci siano anche questi componenti sono fattori umani è ovvio che sia così ma non è questo però ecco non è la parte predominante non è la parte predominante anche perché non reggerebbe tutta la struttura se no saremo in un film di 007 cosa che in un certo senso lo siamo però non è però quanto può quanto il potere così riuscirebbe ad andare avanti per un periodo abbastanza breve poi tutto si complica e crolla serve altro perché esattamente jeff come il venditore chi ha studiato anche un minimo di pnl o di tecniche di vendita o chi ha visto quel famoso film con leonardo di capri che adesso non ricordo dove lui fa il venditore no innanzitutto devi essere per vendere devi essere tu convinto di quello che stai vendendo perché altrimenti non riesci a trasmettere e state tranquilli che i potenti che stanno facendo quello che stanno facendo in questo momento che stanno portando avanti questa visione del mondo sono convinti di avere ragione di essere nel giusto esattamente come avvenuto sotto il periodo dell'unione sovietica stessa cosa come avvenuto sotto il periodo del nazismo della famosa rivoluzione francese no che poi doveva liberare le persone poi si è trasformato nel terrore possiamo portare mille altri esempi comunque gli esempi storici diciamo non mancano di certo e l'ideologia la visione del mondo il credere di poter plasmare il mondo secondo un modo giusto dove questo modo giusto è quello che il potente di turno o la persona che segue il potente di turno è in testa è questa cosa la tragedia ecco perché Jeff ogni volta anche che sento qualcuno dire bene partiamo bisogna creare un'ideologia nuova una visione nuova in cui magari inseriamo anche il famoso multiculturalismo o le diverse etnie state tranquilli che se si parte con un'ideologia con un voler plasmare il mondo in una determinata direzione si finirà sempre in quello che Anna Arendt ha chiamato giustamente totalitarismo quello in cui noi stiamo vivendo adesso è un totalitarismo tutto deve plasmarsi intorno a quella famoso pensiero unico e che cos'è questo pensiero unico se non l'idologia l'idea di qualcuno che viene viene imposta no agli altri a me sembra abbastanza anche semplice ovvio il problema qual è Jeff è che partiamo spesso da un punto di vista sbagliato è questa l'errore mentre dovremmo iniziare a cambiare prospettiva se riusciamo a guardare da questo punto di vista le cose tutto diventa molto più semplice e iniziano anche a diventare inizia a diventare anche chiaro il motivo per cui la gente la massa agisce come agisce in maniera fanatica perché la gente è fondamentalmente disperata la gente oggi tutte le persone sono disperate Jeff cioè hanno paura hanno perso il senso dell'esistenza sono piene di angoscia e allora quando arriva qualcuno o qualcosa che unifica queste masse dietro un'idea dietro una bandiera dietro una visione del mondo non importa quale sia questa visione del mondo l'importante è che ci sia una visione una squadra a cui sentirsi parte allora tutto il resto passa in secondo piano addirittura la propria vita il proprio benessere passa in secondo piano una fase tipica dei totalitarismi è che la gente addirittura è disposta a soffrire anche magari a morire a perdere tutto pur di rimanere attaccata a quelle ideologie a quella visione del mondo cosa abbiamo visto negli ultimi anni? pensate alla persona ad esempio che se ne va in giro in macchina da sola con la mascherina per fare un esempio perché lo fa? qual è il motivo? quella mascherina rappresenta un senso di appartenenza a un gruppo è come il ragazzino che se ne va in giro con la maglietta della Roma o del Milan non gli serve in quel momento serve a lui per informarsi alle regole generali per sentirsi parte di qualcosa, di qualcuno ecco perché poi non importa la logica, non importano i ragionamenti, non importa nulla l'importante è la cosa più importante per l'essere umano sentirsi parte di un gruppo e la stessa cosa, attenzione, fanno i potenti non è diverso il potente di turno fa la stessa cosa in quel momento si sente il capo di un gruppo che lui guida è l'allenatore di una grande squadra vincente e non può accettare di perdere e soprattutto in questo stato psicologico non puoi accettare di aver sbagliato e quindi cosa fai? continui ad alimentare ancora di più la situazione questa cosa l'abbiamo vista negli esempi che hai citato tu all'inizio Jeff e abbiamo visto come le cose sono andate sempre di più peggiorando nell'arco dei secoli oggi siamo all'apice di questa situazione e come facciamo a cambiare? perché sembra che lo stile appunto sia sempre la strategia sia sempre la stessa e anche rispetto alla demonizzazione dell'altro perché chi ha scoperto l'America è andato nel nuovo mondo diceva che quelli erano i più selvaggi mai visti prima ma è la stessa cosa che poi si diceva dei mori e quindi che si diceva verso chiunque altro ed è quello che adesso diciamo dei russi tra l'altro c'è questo stupido gioco storico per cui quando c'è un cattivo quando dobbiamo demonizzare un nemico e deve diventare il nemico pubblico numero uno diventa l'Hitler di turno Saddam Hussein sono tutti diventati adesso c'è Putin che è il nuovo Hitler come facciamo Michele? ma anche lì Jeff se riportiamo alla mente il discorso dell'esempio della squadra tu per sentirti parte di una squadra devi avere un nemico per forza altrimenti inizi a guardare chi hai accanto come nemico come rivale vuoi unificare qualcuno? trovo un nemico e vedrai che tutti agiranno verso quella direzione è necessario a qualsiasi sistema il nemico tu pensa anche per essere efficiente sul lavoro ad un certo punto di solito la persona X deve pensare deve avere un'immagine di qualcuno in testa e dire io sono più bravo di quello lì io posso fare di più magari non lo dice pubblicamente perché non lo ammetterà mai pubblicamente ma dentro di sé fa così anche il famoso superare il limite tipo nello sport quando qualcuno raggiunge certi risultati e uno dice il grande giocatore cosa fa o il grande sportivo devo superare devo ottenere un risultato migliore quindi è sempre un nemico un rivale uno scontro per identificare l'unità per mantenere l'unità ma è una cosa allora inconsapevole chi è dentro a questo gioco non si accorge di esserci esatto la mia tesi sempre che come sai è parecchio differente rispetto a quella di molti del mondo della controinformazione che tutto questo avviene a livello inconscio ma anche per il potente magari c'è qualcuno un po' più sveglio che prende coscienza però quando agisce magari perché si mette a riflettere rimane a caso parla con il collega di turno e magari tirano fuori l'idea ma non basta essere cosciente per fare una cosa così potente la devi fare in maniera inconscia è come quando guidi la macchina Jeff per essere efficiente nel guidare la macchina non devi metterti a pensare quale pedale stai schiacciando quale marce stai inserendo qual è il giro del motore se tu ti metti a pensare a tutto questo fai tutto in modo automatico devi farlo in maniera automatico per essere efficiente se vi ricordate il famoso film Top Gun c'è una scena dove c'è Tom Cruise che dice lassù non devi pensare se pensi muori quando è nel caccio il concetto è quello quando anche uno scrive anche io in questo momento mentre sto parlando con tutto che sto dicendo cose razionali o quantomeno uno si augura siano razionali è comunque un discorso io se inizio a riflettere su quello che dico come fanno molte persone soprattutto alle prime armi quando iniziano a parlare in pubblico ebbè ti blocchino non riesci più a parlare il trucco è paradossalmente proprio agire in maniera inconscia ti devi preparare prima al più ecco il potente in questo momento i famosi potenti della terra agiscono in maniera automatica e lo vediamo anche a livello diciamo intermedio i famosi intermediari che sono finanzieri o uomini di scienza e così via se voi li ascoltate con attenzione non sono non vanno in tv a recitare una parte fateci caso lo dicono ci credono cioè sono proprio persone che con fanatismo tanto che irritano no? perché se tu vedi qualcuno che recita una parte al più ti fai una risata no? irrita perché è quell'individuo perché lo fa con fanatismo dice cose insensate illogiche palesemente illogiche e per poter dire quelle cose illogiche con quella fermezza tu ci devi credere dentro è quello il fanatismo è ideologia che è classica struttura del totalitarismo il totalitarismo è una macchina infatti a me piace delle volte definirla anche mega macchina perché secondo me rende anche un po' il concetto è una macchina gigantesca è un sistema che agisce di suo e tu ti devi adeguare a quel sistema per agire insieme a quel sistema e nel momento in cui ti adegui a quel sistema vai da solo cioè agisce tutto in maniera automatica ma questo vale per il piccolo negoziante che scrive che non fa entrare alcune persone eccetera al mega finanziere non cambia anzi forse più vai in alto più il meccanismo diventa complicato più ti obbligano più il sistema ti obbliga ad agire in un certo modo guardate quello che sta succedendo con i governi di tutto il mondo non solo di Italia quantomeno del mondo occidentale magari parlano dicono possiamo fare questo facciamo questo facciamo quell'altro arrivano al potere puntualmente non riescono a fare nulla quasi nulla di quello che dicono qualcuno dice ma non solo Michele le cose che promuovono per esempio a favore dell'ambiente sono talmente contro l'ambiente che non è possibile che non lo capiscano va bene che non saranno tutti delle scime però non saranno così stupidi da non capire perché e perché Jeff pure questa storia del clima guarda è tutto collegato questo aumento della paura continua no cioè ci vivono anche loro in questo mondo cioè vivere in una follia del genere non è esattamente intelligente lo puoi fare per un periodo a tavolino perché ti serve per uno scopo preciso diciamo a livello tattico come che dicono i militari no ma a lungo a lungo termine non ha senso nemmeno per il potente vivere in questo stato di follia e invece perché continuano a farlo perché ad esempio perché il sistema la megamacchina il sistema il totalitarismo si nutre di paura leggetevi la fattoria degli animali di Orwell è chiarissimo spiega in maniera ottima attraverso un racconto questo meccanismo e tu nel momento in cui inneschi la paura e questo sistema si basa sulla paura perché la massa per sentirsi coesa o unita e per credere fermamente in qualcosa deve partire dalla paura dal processo di paura che è ovvio normale quindi affido a qualcuno la mia salvezza e questo è il processo ebbene poi ad un certo punto anche chi comanda deve credere a quello e allora deve nascere sempre un nuovo problema Jeff deve nascere altrimenti il sistema collassa e la conoscenza Michele la conoscenza quella che è frutto dello studio e quindi la conoscenza diciamo reale può aiutare? Veramente quella è la vera soluzione il problema è che Jeff storicamente è sempre è utile solo ad una minoranza perché studiare studiare non nel senso libresco del termine studiare i propri principi della natura capire cosa è veramente bene cosa è veramente male avere il controllo di sé esercitare l'autodisciplina studiare se stessi anche esatto avere il dominio di sé che è già cosa che le persone perché se io ho il dominio di me non riesco un sistema non mi manipola perché la manipolazione avviene sullo stato emotivo è ovvio questo se io ho il dominio su di me nessuna manipolazione può agire sulla mia anima è automatico questo è ovvio è naturale però quanto lavoro serve quanto impegno ad avere il controllo emotivo no? della propria persona e quindi capisci che in maniera automatica ad un certo punto la percentuale delle persone in grado di fare questo si riduce a un numero molto piccolo infatti non a caso gli studi parlano sempre quando fanno anche gli esperimenti su queste cose si riduce sempre intorno al 20% parliamo del 10 20% gli studi quelli diciamo più ottimisti parlano del 25% di un gruppo ma secondo me già stiamo andando proprio a numeri molto elevati ma di questo si parla questo è il numero quindi capisci in una situazione del genere la conoscenza salva solo sempre un piccolo gruppo di persone ti faccio un esempio storico velocemente perché secondo me è importante per chi ci ascolta alla fine della seconda guerra mondiale alcuni psicologi adesso non ricordo bene il nome però se vuoi magari lo aggiungiamo sotto alcuni studiosi fecero un esperimento presero delle linee e chiamarono di diversa lunghezza una linea era tipo non so facciamo un esempio 5 centimetri una 8 una 10 e un'altra 5 centimetri quindi linea B C E C insomma così allora chiesero alle persone anzi uno e poi A B E C allora chiesero a questo gruppo di persone di dire a quale linea corrispondeva la linea 1 una cosa roba da bambini no? la linea 1 è uguale a A B o C allora devi sapere che il grosso di queste persone anzi te la metto in questo modo quasi tutti risposero che A era uguale a B e che la linea 1 era uguale a B quella molto più lunga al che 1 dice sono tutti impazziti convinti eh tutti impazziti ebbene devi sapere che questi gruppi erano formati questi gruppi in cui insomma erano con cui facevano questo esperimento erano formati tipo per mi sembra erano gruppi di 8 persone di cui 7 facevano parte dell'esperimento cioè erano uomini dell'esperimento quindi erano scienziati e si erano messi o comunque uomini che si erano messi d'accordo per dire tutti insieme la linea B l'ottava persona per conformarsi al resto diceva con convinzione anche la B e la cosa più interessante è che circa il 70% adesso non ricordo bene la percentuale quindi era un esperimento su l'autonomia di pensiero esatto ma la cosa ancora più interessante è che il grosso di quelle persone ha dichiarato che era convinta fosse quella la linea e soltanto mi sembra appunto il famoso 20% si era opposto questo per dire no perché le persone di solito piacciono un po' gli esperimenti quindi ho cercato di citare questo esperimento per chiarire il concetto questo dimostra Jeff che il grosso delle persone non riuscirai mai a illuminargli la visione chiara se domani mattina dovessero ripartire di nuovo con il bombardamento di ciò di cui non possiamo nominare e le persone dicono non ci ricascheranno non ci sarà di nuovo io invece dico che se iniziano di nuovo a bombardare come sanno loro ritornerà tutto più o meno come prima perché il meccanismo umano perché le persone si sentono sole perché un processo inconscio emotivo non ha a che fare con la ragione e questo vale anche ed è la cosa ancora più grave anche per chi comanda per il potente quei ragionamenti che sentite fare a questi individui sono convinti e questa è la cosa ancora più inquietante Jeff perché in sostanza è come essere immersi in una follia collettiva di questo stiamo se andavate a chiedere a un nazista e ci sono le registrazioni sai anche dei processi di Nuremberg eccetera quelli erano convinti di fare la cosa giusta ma convinti nel senso c'era una famosa frase sto facendo il mio lavoro non so se l'avete mai sentita cioè convinti che era giù che era una cosa giusta e normale perché quando tu sei immerso in quell'ideologia per te è giusto fare quello e questo deve inquietare ancora di più le persone è ancora più inquietante del pensare che c'è semplicemente qualcuno che vuole ottenere qualche interesse perché è molto più infernale come immagino e il problema è che dobbiamo imparare a difenderci da questo meccanismo allora perché forse dobbiamo imparare a domandarci tutti se non ci stiamo autoconvincendo di qualcosa e se ciò che pensiamo è frutto di una nostra riflessione o di qualcos'altro dovremmo farlo continuamente o sbaglio esatto 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 esercitare appunto iniziando con quella che io portavo antilostoicismo per tanti motivi ma soprattutto per creare un po' una specie di barca di Noè per queste persone perché imparare a essere autodisciplinato il dominio di sé avere il dominio delle proprie emozioni del proprio essere essere in grado di guardare il mondo per quello che è non avere paura ok ti porta in automatico poi a non essere come dicevo prima soggetto alle manipolazioni quindi sicuramente sarà impossibile farlo con la massa anzi io sono abbastanza un po' per quanto riguarda il sistema in sé un po' pessimista nel senso che come fai a piegare una situazione del genere anche perché non riguarda un unico Stato sai fosse solo l'Italia togli come dire i fanatici che ci sono al potere come era avvenuto al tempo il nazismo al tempo dell'Unione Sovietica e hai risolto il problema diciamo così no perché qui la cosa è molto più grande e quindi capisci Jeff quello che si può fare secondo me invece cercare di creare questa specie diciamo facciamo chiamiamola così di barca di Noè di gruppo di persone che si esercitano in continuazione a salvare il proprio spirito la propria anima il proprio essere ed è già tanto ed è già tanto e poi eventualmente ecco salvaguardare questa nicchia di persone nel caso in cui nel momento in cui crollerà perché crollerà tutti i totalitarismi alla fine crollano perché si autodistruggono perché pensate questo processo non può appiattirsi deve andare sempre in maniera più estrema deve sempre di più alimentare paura anzi e lo vediamo lo stiamo vedendo in continuazione perché altrimenti non regge si alimenta di questo ecco nel momento in cui poi questo sistema verrà verrà meno verrà a crollare cosa inevitabile ecco che ci siano delle persone pronte ecco a ricostruire persone sane a ricostruire in maniera sana una società e nel frattempo ovviamente salvaguardare la propria vita e non cadere anzi non diventare pasto di questo sistema credo che non sia facile perché con questa con questa tendenza ad esaltare il proprio ego che c'è un po' in tutto c'è anche nella vita quotidiana ma c'è nell'arte e c'è nell'informazione abbiamo visto è molto difficile perché se riteniamo di essere quelli che si sono salvati lo spirito e che quindi possano insegnarlo agli altri già creiamo un problema perché forse non possiamo essere sicuri che noi siamo quelli che abbiamo salvato il nostro fisso possiamo essere solo sicuri che ci stiamo provando e che stiamo cercando di conoscere più possibile tutto ciò che ci circonda e tutto ciò che abbiamo detto per farlo ma la sicurezza non possiamo dare a nessuno ma guarda Giaffi su questo sono diciamo un po' meno relativista mettiamola così cioè perché alla fine l'uomo è un essere razionale in senso alto non in senso meccanicistico del termine in senso spirituale perché questa ci tengo sempre a sottolineare questa cosa però è un essere razionale un essere che non agisce di istinti il suo principio base è quello è la mente è la ragione è il legarsi al divino in continuazione ebbene ogni essere vivente un albero una pianta ha una propria caratteristica quella caratteristica è ciò che gli dà la verità ciò che è veramente un serpente striscia facciamo un esempio sciocco sa di essere serpente se il serpente si mette a fare non so la margherita o l'albero va contro la sua natura quindi invece secondo me dovremmo riappropriarci di certe certezze dire no alcune cose sono vere è così l'uomo è questo questo certo ci sono verità che sono pressoché innegabili e quindi vedi quando tu agisci così tu ti eserciti con l'autodisciplina impari a controllare la tua emotività ti innalzi rimani sempre legato con la mente a livello di una visione spirituale con visione spirituale intendo dire che ti senti parte di un tutto quindi senti un'intelligenza superiore a cui tu sei legata a quella tua mente è legata c'è la famosa armonia ecco armonia divina che tu senti in te e intorno a te non stiamo parlando di concetti new age attenzione stiamo parlando proprio di vita reale ecco quando tu fai in questo modo quando agisci a questi livelli Jeff smetti di avere paura sai che sei qui in questo mondo per svolgere una missione un compito sei parte di questo mondo e non hai più nemmeno paura ecco che svanisce pure la paura di conseguenza quindi a mio parere ci sono dei processi precisi con cui far culturale ecco dove la parola significa coltivare l'uomo per coltivare l'uomo che devono essere messi in pratica quotidianamente e dobbiamo farlo io secondo me poi a quel punto le persone iniziano magari possono iniziare a prenderti come punto di riferimento come esempio ecco perché non è un processo egoista egoista significa non me ne frega niente del resto del mondo penso solo a me no io dico cerco di fare ciò per cui sono venuto al mondo per cui Dio l'universo la grande mente superiore mi ha messo al mondo nella speranza utilizziamo questo termine non cara agli stoici ma nel senso moderno nella speranza di essere preso magari come punto di riferimento o come esempio ma devo essere un esempio così che cambio le cose di sicuro che apre una porta di possibilità credo tu sia d'accordo col fatto che per resistere al potere quindi anche sulla base proprio di tutto ciò che hai detto bisogna stare attenti a non fare il gioco del potere quindi a non fare il gioco di questa enorme macchina come l'hai chiamata di questo enorme ingranaggio di cui se no sia una parte dell'ingranaggio che si dice di voler combattere esatto esatto infatti da lì nasce nel mondo antico gli stoici soprattutto un po' in realtà tutta l'alta filosofia ma gli stoici in particolare dicevano che la virtù prima dell'uomo è la sapienza sapienza non con il libresca sempre del termine ma appunto conoscere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato ciò che è veramente bene e ciò che è veramente male basta leggere ad esempio Cicerone che era un po' il divulgatore di queste cose anche se per noi invece sono testi importantissimi lo sono sempre stati lui aspirava più ad essere colui che divulgava questi concetti c'è un suo libro che si intitola proprio Del bene e del male dove spiega questo è uno successivo ancora più bello che le discussioni tuscolane che invito tutti a leggere questi due testi dove vengono proprio spiegate queste cose ecco la sapienza che poi diventa nella pratica viene attuata nella pratica attraverso le famose quattro virtù cardinali che sono conoscenza del bene e del male loro la chiamavano prudenzia che non è la prudenza come intendiamo noi la giustizia la fortezza il coraggio e la temperanza quella che noi oggi potremmo chiamare appunto autodisciplina come vediamo c'è già un codice di comportamento ben preciso per essere per essere uomini veri uomini non ingranaggi o insetti perché a questo il totalitarismo riduce l'essere umano infatti potremmo concludere la chiacchierata di oggi dicendo Michele che bisogna tornare ad essere uomini in senso non riferito specificatamente al genere anzi ma essere uomini come esseri umani esatto anche perché anche in questo caso ricordo sempre che uomo i romani distinguevano l'uomo il vir tra vir e uomo dove uomo è semplicemente l'appartenente alla specie umana e basta il vir era l'uomo forte nel senso alto l'uomo virtuoso quello significava quindi che affrontava la realtà con forza perché non aveva paura ecco da lì poi nasce quel paragono quel discorso di virile ma non è che è solo virile vir significa sono talmente forte che affronta a testa alta la vita non ho paura e certo se tu hai fatto le virtù e cioè questa visione del mondo che abbiamo descritto ora non puoi avere paura è impossibile e non puoi soprattutto piegarti ai voleri di un totalitarismo o comunque anche di un tiranno che è un livello molto più basso rispetto al totalitarismo perché il tiranno ti governa dall'esterno e basta il totalitarismo ti si infila in testa è come un virus che ti entra nel cervello del virus del computer un programma ecco e questa è la visione che invece uno deve tornare ad avere Rebir significava proprio vero uomo ecco perché anche è la cultura la coltivazione dell'uomo che ci rende veri uomini ed è questo quello che dobbiamo fare se sei d'accordo Michele ci potremmo dare appuntamento proprio per parlare di che cos'è il totalitarismo perché forse bisogna rifarsi un po' allo studio della psicologia sociale e di come i totalitarismi si creano e così facciamo dei paragoni con ciò che stiamo vivendo adesso assolutamente sì e secondo me è molto importante farlo allora arrivederci alla prossima volta a presto grazie a tutti per aver seguito e ripeto l'appello sostenete il nostro canale lo potete fare dalla pagina web del nostro sito www.casadelsole.tv la sostienici o con un abbonamento o con un contributo o una tantum e lo potete fare anche continuando a partecipare insieme a noi perché quello che facciamo è un lavoro insieme grazie e arrivederci alla prossima volta